ancora un giorno insieme ben ritrovati pro e contro favorevoli e contrari e voci fuori dal coro Foggia non si smentisce mai è sempre divisa su due sponde nel bene come nel male figurarsi poi se l'argomento è quello pallonaro può allora succedere e succede puntualmente che ci siano i cosiddetti fellechiani che non perdono occasione per ricordare come sotto il punto di vista sportivo il Foggia nelle ultime due stagioni abbia comunque conseguito risultati lusinghieri e significativi prima il ritorno in serie c ora prima la salvezza e poi quasi la matematica certezza di accedere ai playoff che sono all'orizzonte e poi ci sono i pintussiani quelli che per partito preso e a prescindere comunque hanno salutato con gioia e con particolare simpatia l'avvento della signora che arriva dalla sardegna purché purché comunque felleka fosse stato messo in un angolo tutto giusto tutto normale tutto rientra ovviamente nell'ordine delle cose per quel che ci riguarda per quel che riguarda l'attacco e per quel che riguarda il sottoscritto mi piace però puntualizzare alcuni passaggi rapidissimi brevissimi il giornale è stato sempre molto attento distaccato soprattutto nella prima fase della gestione felleka come era normale che fosse perché bisognava conoscere l'interlocutore e capire poi dove e in quale direzione andava il calcio foggiano nel momento in cui sono arrivati i risultati evidentemente abbiamo applaudito come era il caso che fosse prima il ritorno del foggia in serie c e poi per questa stagione insomma per questi straordinari risultati che stanno proiettando il foggia verso i playoff per quello che invece l'attualità evidentemente non possiamo che essere molto guardinghi perché aspettiamo quelli che saranno gli eventi ma assolutamente non ci sentiamo né nella condizione né nel dovere né di stendere tappeti rossi né tantomeno di assecondare quelli che sono gli attuali progetti sarà soltanto il tempo che è sempre galantuomo a dirci se si sta facendo bene o si sta facendo male noi siamo qui ad osservare e a raccontare quelli che saranno gli eventi due ultime annotazioni mi permetto di dire anche perché insomma ho qualche capellino bianco qua e là che comincia ad intravedersi e forse un po di esperienza l'ho maturata in questi anni soprattutto dall'altra parte della barricata dico alla dottoressa pintus è bene sottolineare dottoresse perché poi insomma dalle parti via l'alfanto non è che di dottori o di dottoresse ce ne siano tante dico dico alla pintus testa alta occhio attenzione lei è nuova di questo mondo del calcio e quindi è ignara di tanti processi di tante dinamiche bisogna stare molto attenti perché gli avvoltoi incombono e in una situazione come questa è facile che possano essercene diversi all'orizzonte concludo invece rivolgendomi a coloro che qua e là da qualche banchetto o da qualche salottino televisivo si stanno schierando dico a costoro di fare attenzione con calma con calma perché si rischia di rimanere con il cerino acceso in mano alla luce anche di quelli che saranno gli eventi ma soprattutto si rischia di essere complici grazie ci vediamo domani a risentire